Il segno della croce, il segno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Benedita Dio, il Padre, il Figlio e il Spirito Santo, il Padre, il Dato di Pace. Credo che dobbiamo avere un atteggiamento di grande rispetto nei confronti di tutti, senza creare né mostri né eroi. Eccellenza, adesso ha pregato per le vittime? Sì, abbiamo pregato volentieri, lo rifaremo ancora, l'abbiamo già fatto in questi giorni per le vittime che oggi conosciamo. Purtroppo è facilmente ipotizzabile che altre ne verranno. Noi ci auguriamo e preghiamo al Signore che siano nel minor numero possibile. Preghiamo al Signore perché questi che sono dispersi siano restituiti vivi. Lo so che forse può essere forte dire questo, ma noi vogliamo ancora avere un poco di speranza, un poco di fiducia su questo punto. Grazie. 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 Grazie.